Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Rodolfo Sirito, direttore del Dipartimento Interaziendale Ostetrico-Ginecologico del Bambino ASL3 Evangelico. Buongiorno. Buongiorno. Allora, 800-640-771 per le vostre domande in diretta oppure domande via WhatsApp al 347-67-66291. Oggi parliamo di menopausa e di come anche negli anni è cambiata questa fase della donna, nel senso è cambiato l'approccio. È così? Sì, assolutamente. Mentre una volta nell'immaginario collettivo dei nostri nonni, quando una donna entrava in menopausa, si considerava vecchia, invece adesso la menopausa è una condizione in cui una donna vive circa un terzo della sua esistenza. E pensiamo a cos'erano le cinquantenni dei tempi dei nostri nonni, cosa sono le cinquantenni di adesso, che sono donne giovani in forma attive, che fanno attività fisica, hanno interessi. Quindi assolutamente c'è stato un cambiamento culturale legato sicuramente anche alle condizioni di vita, al benessere diffuso, ma anche dal punto di vista proprio della medicina, grazie ai nuovi approcci, alle nuove terapie, assolutamente è cambiato moltissimo. Le donne in menopausa adesso sono donne spesso ancora giovani e che comunque, quando hanno dei problemi che inevitabilmente arrivano con la menopausa, devono essere aiutate a superarli bene e a vivere questa nuova fase della loro vita con rinnovato entusiasmo e in condizioni di assoluto benessere. Allora, prima di arrivare a quelle che sono le problematiche, tecnicamente quando arriva la menopausa, dottor Silito? Allora, la diagnosi di menopausa è una diagnosi retrospettiva. Cioè noi possiamo definire in menopausa una donna quando è stata un anno senza cicli mestruali. Il problema è che la fase che conduce alla menopausa spesso è una fase di transizione che è vissuta in maniera tumultuosa. Perché? Perché per la menopausa è la condizione in cui lo vai e smettono di funzionare. Smettono di funzionare e non producono più gli estrogi nel progesterone che servono sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psichico. La fase in cui vengono meno questi ormoni è una fase dinamica in cui ci sono delle fluttuazioni ormonali. Quindi capita magari che una donna oggi sia in assoluto benessere e domani sia in stato di agitazione, di insonnia, di impreda. Le cosiddette caldane che sono i fenomeni vasomotori in cui magari nel cuore della notte si sveglia con dei calori insopportabili da dover aprire la finestra, scoprirsi. E questa è la fase di transizione che si chiama anche climaterio che può durare uno, due, tre anni. E questa è la fase peggiore. Quindi noi dobbiamo essere pronti a assistere le donne, proprio ad accompagnarle verso la menopausa. Senta, lei parlava di vampate, quelle che insomma molti definiscono caldane. Questo è uno, diciamo così, dei sintomi, il sintomo più tipico? Succede a tutti? Dura solo poco tempo? Allora, questa è una fase che succede in circa dal 50 al 70% delle donne. Ci sono di quelle che lo avvertono in maniera più fastidiosa, altre che lo avvertono in maniera meno fastidiosa. Spesso, nella maggior parte dei casi, dopo uno o due anni della menopausa, spariscono. Però ricordiamo che un 10% delle donne possono averla a 70 anni. Quindi non spariscono a tutte le donne. Comunque si attenuano. Questo è il sintomo più tipico, sono le cosiddette complicanze, a breve termine, della menopausa. Altri problemi sono dovuti al fatto che gli estrogeni e il progesterone sono ormoni che nutrono le mucose dell'apparato genitorinario. Quindi vagina, vescica e vulva, che sarebbero i genitali esterni. Quindi un altro sintomo tipico della menopausa è la difficoltà nella vita sessuale. Perché c'è una secchezza vaginale, una mancata riduzione dell'elasticità dei tessuti. Quindi questo può rendere difficoltosi i rapporti. Questi sono gli aspetti più tipici o quantomeno quelli che danno più fastidio alle pazienti. Poi ci sono anche altri aspetti. Perché così come la carenza di estrogeni e progesterone ha degli effetti sulle mucose dell'apparato genitorinario, ce l'ha anche sulla cute. Quindi è normale che spesso i pazienti si lamentino della pelle più asciutta, più secca, a tutti i livelli. E poi ci sono delle complicanze che richiedono un pochettino più di tempo per manifestarsi, ma che sono per certi aspetti ancora più seri. Uno per tutti è l'aumento di peso. Perché la donna, mentre va in menopausa, si rende conto che la sua forma corporea cambia. C'è proprio un aumento di peso a livello dell'addome, della pancia, in cui il girovita si allarga. Questo è proprio classico della menopausa, proprio per la carenza di estrogeni. E poi ci sono ancora degli aspetti molto importanti che richiedono degli anni per manifestarsi, che però non vanno sottovalutati. Pensiamo all'osteoporosi. Gli estrogeni hanno un effetto di stabilizzazione, di nutrimento, usiamo questo termine, sul tessuto osso. Nel momento in cui vengono meno, il tessuto osso si impoverisce, si assottiglia, e quindi si va verso l'osteoporosi e si ha un rischio aumentato di fratture osse. Il cuore. Se noi guardiamo l'incidenza di infarto tra uomo e donna, vediamo che l'uomo ha un rischio di infarto che cresce per tutta la vita. Nella donna invece si ha un basso rischio. Si ha la menopausa e dopo la menopausa c'è un aumento di rischio in cui la curva cresce molto rapidamente. Perché gli estrogeni di nuovo hanno un effetto protettivo sul cuore. Quindi ci sono tutta una serie di modificazioni che prima di pensare alle terapie, vanno corretti e vanno attenuati con lo stile di vita. Arriviamo, scusi dottore, la interrompo, così poi tra poco affrontiamo questo aspetto, diciamo, di che cosa si può fare anche con lo stile di vita, perché c'è già la prima telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Dunque, io sono in menopausa da sei anni. Allora, i primi anni, il primo anno io ho avuto problemi durante il rapporto, sentivo molto dolore. Allora la ginecologa mi ha consigliato, io assumevo il Lidial. E è stata meglio. Poi però adesso, dopo cinque anni di assunzione, l'ho speso. E quindi diciamo che quel problema è tornato. Poi si è abbassato molto anche il desiderio sessuale. Sì. Cioè proprio inesistente. E volevo sapere se è normale e se posso fare qualcosa, se c'è qualcosa che mi possa aiutare. Grazie, grazie signora. Grazie. Allora, sicuramente qualcosa si può fare o quantomeno si può provare. Le terapie in menopausa, anche in casi come questo, sono terapie sempre un po' empiriche. Nel senso che bisogna, noi abbiamo a disposizione tutta una serie di presidi, di farmaci, di terapie. Vanno sperimentate e perché quello che può funzionare su una donna non è detto che funzioni nell'altra. Se il disturbo è un disturbo localizzato, come in questo caso, alla sfera genitale, alla difficoltà dei rapporti, abbiamo a disposizione tutta una serie di terapie locali. Adesso, ad esempio, è presente come in forma di ovuli un nuovo, da qualche anno, un nuovo preparato ormonale quindi che viene utilizzato per via locale sotto forma di ovuli che non viene assorbito, quindi non ha rischi a livello sistemico di nessun tipo, il quale è un progenitore degli ormoni femminili e viene convertito nella forma attiva all'interno della cellula. Quindi, questo, ad esempio, è una terapia che vale la pena di provare perché anche sul desiderio potrebbe avere qualche effetto perché ricordiamoci che a livello della vagina e della vulva non esistono solo gli estrogeni per il progesterone ma anche quelli per gli androgeni e anche nella donna gli androgeni hanno una loro utilità per il tono dell'umore e per il desiderio sessuale. Quindi, ad esempio, questa è una terapia che varrebbe la pena di provare ma sicuramente la ginecologa della signora ne è a conoscenza. Esistono ancora altre terapie comunque che agiscono selettivamente sulla mucosa della vulva della vagina in maniera tale da attenuare questi disturbi che riferisce la signora. Elisa scrive Buongiorno, ci sono esami del sangue che si possono fare per capire se si è vicini alla menopausa anche se si assume la pillola anticoncezionale? Grazie. La risposta è gni nel senso che noi intanto se si prende la pillola per poter fare qualsiasi dosaggio ormonale occorre stare un 15-20 giorni in cui si sospende l'assunzione perché la pillola maschera e altera gli esami. Questo è il primo aspetto. Ci sono delle modificazioni ormonali che precedono la menopausa una per tutte l'aumento dell'ormone che si chiama FSH che è l'ormone che dal cervello dall'ipofisi stimola le ovaie però è un indicatore abbastanza aspecifico perché questo ci consente di dire che la donna è nella cosiddetta pre-menopausa ma non ci dice quando arriverà la menopausa vera e propria comunque se si ha intenzione di avere un'idea della condizione della donna questo è sicuramente un esame che si può fare. Stiamo parlando di menopausa Daniela scrive la menopausa per me è stata devastante unico beneficio è la scomparsa del mal di testa poi aumento di peso notevole pressione alta ma soprattutto a livello di rapporti fisici una tragedia ho solo 61 anni non mi sento più una donna secchezza dolore blocco psicologico mancanza di desiderio esiste un rimedio? sicuramente il rimedio esiste e va affrontato nel momento in cui questi sintomi si sono presentati come ho accenato abbiamo a disposizione un sacco di armi per la menopausa questi questi strumenti farmacologici che abbiamo a disposizione vanno utilizzati in maniera non crescente a seconda del bisogno partendo da quelli più leggeri tipo integratori o gel idratanti a livello vaginale per poi passare la terapia ormonale locale e la terapia ormonale sistemica in questi anni si è parlato molto talvolta anche a proposito della terapia ormonale sostitutiva che è stata demonizzata la terapia ormonale sostitutiva come dice il nome è una terapia quindi va utilizzata solo nelle pazienti che ne hanno effettivo bisogno quello che dice la signora mi fa pensare che lei era una candidata e per certi versi è tuttora alla terapia ormonale sostitutiva sempre che non esistano delle controindicazioni non assolute che non sono molte ma se sono presenti allora questo ci condizionano però i sintomi di malessere non grave che riferisce la signora che ha scritto questo messaggio mi induce a pensare che forse la terapia ormonale sostitutiva andava presa assolutamente in considerazione assieme a un attento controllo dello stile di vita perché come abbiamo detto ad esempio c'è un aumento di peso in gravidanza perché in menopausa si assiste a una diminuzione del metabolismo cioè l'organismo utilizza meno brucia meno calorie quindi se noi in menopausa vogliamo mantenere lo stesso peso corporeo o provarci dobbiamo agire su due fronti da un lato introdurre meno calorie quindi mangiare meno dall'altro bruciarne di più cioè fare più attività fisica diciamo che è stato calcolato che la condizione ideale di attività fisica in menopausa sono circa 30 minuti e 5 giorni alla settimana per una donna che lavori con una famiglia probabilmente questo è impossibile però comunque due o tre volte la settimana di attività fisica può fare moltissimo assieme a una riduzione dell'apporto calorico e ad evitare cose che sappiamo bene essere dannose come il fumo l'alcol l'eccessivo l'accessiva assunzione di dolci e di grassi buongiorno 60 anni problemi con la menopausa vampate insonnia sbalzi di umore mi è stata consigliata la pillola purtroppo non è la prima pillola prendo viuva da 5 mesi il problema è che non ho vampate anche se al mattino presto intorno alle 5 inizio a sudare ma sembra che poi vada un po' meglio il problema più grande ce l'ho con i chili dall'inizio della menopausa ho preso 15 chili sono stata la nutrizionista ma con scarso successo ho anche dei noduli della tiroide non prendo medicina per la tiroide ma il metabolismo è completamente bloccato cosa fare? colpa della menopausa o della pillola? allora il prodotto che ho citato dalla signora è un prodotto relativamente nuovo che fa uso comunque dei cosiddetti ormoni bioidentici quindi sono ormoni che non sono per nulla di simili da quelli che sono l'estrogeno e il progesterone che produce l'organismo quindi dal punto di vista dell'impatto metabolico mi viene da dire che dovrebbe essere una situazione che riproduce abbastanza fedelmente quella condizione della premenopausa per quanto riguarda il peso non e sicuramente questo si ricollega a quello che ho detto prima se però abbiamo dei problemi di tiroide cosa che in questo caso mi pare di capire che ci siano vanno prima di tutto risolti questi perché se non rischiamo di dare alla menopausa colpe eccessive che magari il problema potrebbe essere risolto anche con un accurato messo a punto della funzione della tiroidea buongiorno 40 anni ciclo regolare ritardo di 10 giorni fatto due teste di gravidanza entrambi negativi quindi dubito che sia incinta per quale motivo potrebbe esserci questo ritardo grazie allora non tutte le donne hanno dei cicli regolari e questo è una situazione frequente da accettare dopo i 40 anni può iniziare posso iniziare ad esserci delle alterazioni dei cicli ormonali che preludono alla menopausa anche di diversi anni questo sicuramente si può provare a capire con i con i dosaggi ormonali però talvolta basta anche investigare la storia clinica familiare della paziente perché magari si scopre che in famiglia la mamma lo sorella maggiore hanno avuto lo stesso problema ed è una condizione parafisiologica che di per sé non è una condizione che ci deve preoccupare esiste anche la menopausa precoce certo la menopausa precoce è quella che si si verifica prima dei 40 anni questa è una vera condizione patologica perché una donna che smette di avere estrogeni e progesterone prima dei 40 anni è esposta più di altre a malattie come ostoporosi disturbi cardiaci oltre che tutti i disturbi della sfera psicologica quindi la menopausa precoce è assolutamente una condizione da trattare ma così si ritiene anche la menopausa cosiddetta prematura quella prima dei 45 anni senta in conclusione cerchiamo di fare una sorta di scheda diciamo un po' per le nostre telespettatrici quali sono i consigli così li mettiamo tutti in fila per uno stile di vita corretto da tenere soprattutto insomma nel periodo della menopausa allora i consigli sono il corretto stile di vita quindi cercare di evitare il fumo di ridurre l'alcol di fare attività fisica e di non in previsione della menopausa se una donna in sovrappeso di ridurre il peso questo perché è molto più facile perdere peso a 40 anni che poi a 55 anni quando si è in menopausa questi sono i cardini degli stili di vita il per quanto riguarda invece la l'approccio nella fase di transizione è un approccio che va discusso col ginecologo senza senza timori perché il minimo disturbo va riferito sapendo che noi abbiamo a disposizione tutta una serie di di presidi terapeutici che consentono quantomeno di attenuare tutti o gran parte dei disturbi della menopausa che non è una malattia è una condizione fisiologica che può dare dei problemi che possiamo affrontare e almeno parzialmente risolvere e in ultimo non dobbiamo avere paura delle terapie perché se quando noi abbiamo la febbre non abbiamo paura di prendere l'antibiotico non dobbiamo aver paura di prendere ad esempio la terapia ormonare sostitutiva se ce n'è bisogno allora le leggo ancora due domande buongiorno 49 anni mi è arrivato il ciclo solo per un giorno è normale assolutamente sì perché questa è la fase in cui le ovaie continuano a funzionare ma in maniera saltuaria sporadica e irregolare quindi è assolutamente normale e non deve destare preoccupazione l'ultima domanda 44 anni ho avuto sempre un ciclo abbastanza regolare questo mese ho un ritardo di circa 5 giorni totale assenza del ciclo mai verificatesi premesso che ho avuto il primo ciclo all'età di 10 anni che mia mamma è entrata in menopausa a 46 devo pensare che anche per me possa trattarsi di pre-menopausa grazie direi assolutamente sì e non è ripeto non è nulla di preoccupante ma sono cose assolutamente fisiologiche grazie grazie al dottor Rodolfo Sirito buona giornata e buon lavoro ci vediamo presto buongiorno a lei e a tutti i telespettatori arrivederci arrivederci a tutti i telespettatori Grazie a tutti a tutti i telespettatori